4 Dicembre 2021, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, piegate le vostre ginocchia in preghiera. Colui che si oppone a Cristo agirà e dominerà varie nazioni. Una grande guerra ci sarà e molti si inchineranno alle false ideologie. La morte spirituale si diffonderà ovunque. Nel momento più doloroso, rimanete con Gesù. Qualunque cosa accada, non vi allontanate dalla verità. Io sono la vostra madre e soffro per quello che viene per voi. State attenti. Nelle mani il Santo Rosario e la Sacra Scrittura. Nel cuore, l'amore alla verità. Datevi le vostre mani e io vi condurrò per il cammino sicuro. Allontanatevi dal mondo e servite il Signore con fedeltà. Coraggio. La vittoria di Dio verrà per i giusti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.